Sono qui oggi all'AES per presentare qual è la situazione corrente nel panorama edilizio, soprattutto nazionale, dei materiali alta riflettanza solare. Parliamo di materiali cosiddetti cool roof e similari. Sono materiali pensati per ridurre il surriscaldamento dei singoli edifici e dell'intera urbana e stanno proprio in questi mesi ottenendo un interessantissimo livello di avanzamento della disponibilità commerciale e anche di interesse degli utenti finali, cosa che noi stiamo osservando con il laboratorio di prova che abbiamo presso l'Università di Modena Reggio Emilia. Infatti il numero di materiali che stiamo caratterizzando per certificarne le proprietà sta aumentando esponenzialmente in questi ultimissimi mesi, addirittura in queste ultimissime settimane. Il problema che questo tipo di materiali si propone di affrontare è di estrema attualità perché andiamo ad affrontare sia la cosiddetta isola di calore urbana, il surriscaldamento delle città rispetto alle campagne circostanti legato all'altissimo assorbimento della radiazione solare da parte di edifici, strade e superfici edili, sia gli effetti indotti del surriscaldamento globale, del global warming. Andando con questi materiali e altri effetti solari a ridurre l'assorbimento di calore degli edifici e di tutte le superfici edili, noi andiamo a ridurre sia il surriscaldamento delle città sia il surriscaldamento percepito dai singoli utenti in termini di confort, di fabbisogno energetico e anche di durabilità dei materiali, di inquinanti e via dicendo.